ciao a tutti i black friday di tenorshare sta per arrivare il più grande sconto di tenorshare che si sia mai verificato durante black friday ti servono solo 9 euro e 90 e potrai cambiare il gps del tuo iphone dove vuoi sempre a 9 euro e 90 puoi tracciare le password che vengono inserite all'interno del tuo iphone o del tuo ipad per ora se acquisite un share for uk che può sbloccare il tuo iphone senza l'inserimento di password o passcode oppure il reboot che ripara più di 150 errori di ios senza perdere i dati regaleremo lo strumento i care phone che può trasferire dati da iphone a android e anche tramite computer nei paghi 1 e ne ottieni uno gratis il prezzo originale di entrambi i prodotti di 137 euro e 80 centesimi ma con gli sconti adesso puoi approfittare dell'offerta 71 euro e 98 centesimi quindi a metà del prezzo puoi ottenere uno strumento di sblocco oppure uno strumento di riparazione clicca su una delle icone qua sotto per condividere l'evento del black friday e ottenere un mese gratis del software mirror android ci sono anche molti prodotti che vengono venduti col 70 per cento di sconto come lo strumento di trasferimento dati di whatsapp lo strumento di rimozione del blocco di icloud e lo strumento di recupero dati per iphone fondamentalmente puoi trovare tutti i software che riguardano i telefoni sul sito di tenorshare ti consiglio di andare qua sotto nel link in descrizione controllare tu stesso l'evento del black friday per non perderti nessuna informazione quindi approfitta dei saldi del black friday al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti